Rimini risale sul palcoscenico estivo con la voglia di riannodare quel filo interrotto da due anni di pandemia con più di 150 appuntamenti. Per la musica Samuele Bersani, Alice, Simone Cristichi, Raffaele Gualazzi e Fabrizio Bosso, Maluma, Gali, Elodie. Tornano il cinema all'aperto agli agostiniani, La Notte Rosa, la sagra musicale malatestiana, il festival con lo scrittore Marco Missiroli, Biglietti agli amici e la terrazza Dolce Vita al Grand Hotel con Simona Ventura e Giovanni Terzi. Aspettiamo questi personaggi che conoscono le terrazze della Dolce Vita saremmo molto improntati anche nel cinema perché quest'anno insomma col Museo Fellini, col Museo Fellini, il Museo Fellini ha bisogno anche di essere comunicato per la sua bellezza, è una cosa straordinaria. Noi a Citofonare Rai 2 abbiamo mandato Massimo Canoletta che è rimasto estasiato dal Museo Fellini, se ne parla, però non è comunicarlo attraverso video. Ci sarà anche un turismo secondo me che verrà a Rimini per il Museo Fellini, non solo per le spiagge, per gli ombrelloni che quello è consolidato. Alla Rimini Beach Arena, 10.000 metri quadrati, sulla spiaggia di Miramare ci saranno Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso il 16 agosto con la serata DJ Time e i live dei migliori artisti urban e protagonisti dei più importanti festival di musica elettronica per segnare il ritorno alla discoteca all'aperto dopo un periodo molto difficile per i gestori. Abbiamo lottato con le unghie per rimanere chiaramente a galla e aspettare questa nuova ripartenza e diciamo che in questo momento ci sono molti segnali positivi e sono molto contento di quello che stiamo preparando. Sarà l'invasione pacifica degli Alpini dal 5 all'8 maggio ad aprire il calendario degli eventi riminesi. Un via segnato dal tutto esaurito negli hotel, stando all'andamento delle prenotazioni di Visit Rimini. Sarà la presenza di centinaia di migliaia di persone nella nostra città e credo che davvero è una sorta di ferragosto anticipato perché come indice di riempimento abbiamo alberghi pieni da Misano fino ad arrivare a Cervia, Milano Maritti ma con il fulcro ovviamente su rimine.